Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo mio nuovo live, quest'oggi siamo qui per la prima volta sul nuovo pacchetto ma per evolution nuovo insomma ce l'ho da un po', grazie a lui perchè me l'ha passato lui, sono qui con Giovanni che non saluta perchè è scemo lo schiavo ok e con lo schiavo siamo qui in grind, la prima partita del giorno che ho fatto su questa mappa ho fatto 79 uccisi e mancavano 3 minuti mancavano 3 minuti ovviamente hanno conquistato tutti gli aliati che aiutano sempre quanti sono quanti sono qua oh my god, oh my god, oh my god bene perfetto no no che cazzo è che prima beh l'importante è che io mi sono riammalato, vorrei dirvi in ultime partite che mi chiamavo ma che stagione? ma che stagione? ma facevo una strage? eh, sto 7-0 per l'inizio della partita si dei mostri proprio dei mostri proprio dei mostri proprio proprio dei mostri proprio proprio dei mostri proprio proprio dei mostri cioè gli son sparato dietro a questo si no 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 bastardo tu e il tuo scorpion comunque ragazzi non è assolutamente vero che il pacere fa schifo come dicono quasi tutti esatto perché è una bestia sia col silenziatore che non quindi direi che qua che viene da istambu sta facendo una strage c'è chi non ha sistemato c'è chi non ha sistemato da qui e poi se si chiama AXZ istambu come 6-0 lo fa lui lo fa lui in live il coso ah comunque dopo dovete convincere voi sui commenti l'aria fare un live su armondi se no c'è una bandiera caspita prima impressione su quest'amp mi sembra molto bella ma dai mi hanno conquistato di nuovo tutte le bandiere adesso praticamente Lorix il video che io so io praticamente gli ho carato il canale faccio quello che voglio esatto ma pure io e beh io e Giova siamo i nuovi proprietari del canale Lorix mi chiede eh certo se hai 100 iscritti saremmo raduno e Lorix ci porta in play e noi diciamo bella a tutti i ragazzi basta e non e muori tu you have to die io sto in serie raga minaccia rimosso peccato regola di Call of Duty tu spari per primo tu muori per primo uccisione confermata eh lol si vecchia regola adesso tu spari per primo muori per primo esatto prendiamo Alpha e io sto prendendo Alpha no no non piatea non piatea sei un po' manca una alloster bisogna prendere le bandiere cazzo no me ne manca adesso una alloster no io ne manca una alloster tanto vedi che la vedi che la viva che ne manca una e poi io tu l'intero per il viso e poi io tu l'intero per il viso e poi tu l'intero per il viso esatto anch'io se ne sei tanto vedi che crepo perchè avete preso la bandiera cosa fai cosa fai perché hai una bandiera tu devi morire alloster 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 no no io c'ho alloster io c'ho alloster eeeh io c'ho fatto dietro ma no c'ho anche i cani c'ho lo sciame vai c'ho tutto beh direi che come primo live sono anche a 15 di fine eh no sta a vendita noi ma io sono un monstro lop io sono vuta io sono vuta io sono vuta Florio sì certo certo eh non chiamarla questo ora chiamala nel pros ok ah no 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 non prenderla io c'ho tutto me ne vedo d'acqua non prenderla e non c'è la con noi ma ma che ce la con noi dai che cavolo prendete le mani la prima partita no non l'hai fatto con me la prima partita vediamo qui se vabbè ne ho fatta metà vabbè ne ho fatta metà vabbè proveremo il 100 più in live sulla nuova ma io ne ero lanciato questo dirci di più padrone d'attacco in azione no mi hanno buttato giù guardiamo l'alleato che sta facendo così di noi arpa scarama un po' per l'oreo pure no a te per mano la sua stagione chiamata saranno quando mi ha finito mi sono finite le ricompenze mancano anche 40 secondi oggi giulio un buon parampo ma 44 gara scusatemi se non sto parlando molto ma come vedete st mi chiamata mappa la roba pdv cosa non ha senso l'ha rimanuto di voglia di amici sto che mi manca poco al... sono a venti di fila e mi manca poco all'ostra perdiamoci altro drone d'attacco nemico in arresto Emilio mi sembra un nemico no no tu non l'hai ancora chiamato Kaneshame è vero lori guarda quello no no però mi manca poco all'ostra che camper virus mamma mia stavo prendendo la prostazione cosa volete beh mamma mia stai sicuro che sei pure in negativo con le mie persone eh eh beh io certo vado e non lascio eh lo d'hai dai fai una cosa chiamalo al wussat perchè mi manca poco all'ostra no ma cosa fai io ? ma non l'ha detto lui no no, le l'ho detto io, mi manca poco all'oster, non voglio rischiare no, non me le fa tirare, uno uno? Quanto dura questo secondo? un secondo più lungo della sua vita cambio caricatore perché ce l'ha letto subito no, no, da dove è che mi ha sparato no, no, l'elicottero nemico ma come ha fatto a prenderlo quello? dai, casco pensavo fosse alleato dai, casco lo sciamme l'ho chiamato, ma porca troia questo è il potere degli alleati, raga gli alleati scarsi che li fanno chiamare tu li devi dire ai tuoi cani guarda, dopo qualcuno di voi guardi attentamente il video, torni indietro e guardi sotto che c'è scritto online, vieni, sono stati commetti degli errori, c'è la figurina del cane di lori in fianco davvero? si ma i cani di lori si drogheggiano da panico no, perchè c'è io ero davanti alle mie si, ma hanno di nuovo preso tutte e tre le bandiere questi e non diciamone che consiglio, che sono lasciatene una ma cosa, c'è l'alleato con lo scudo che sta lasciando peggio di me lasciatemi ci, lasciatelo ok comunque voglio tante persone nei commenti che scrivano vi ho scoperto se no io cancello l'amicizia lori e non mi vedete più in questo video dai raga, però se non morivo magari a una dallo star con l'elicottero dai, 44 gatti in fila per tre con resta di due ma che cazzo dici, giovane? ricarico l'arma non ce l'avete? tipo un uavv che è una capocola all'ostar guarda, perché tu chiami, tu mi chiedi gli uavv quando io vai prenderci, vai prenderci abbiamo perso vai c'è allo strada, muoviti, 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 che questi qua prendono tutte oh, li lascio prenderci, oh copri, copri, c'è uno lì accanto, caspita seppette di nemici non prendono le prestazioni a parte che lo stavo giovanendo, attenzione confissionamento nemico in arrivo raga, come vi ho detto prima impressioni di queste mappe sono fantastiche e come vedete si gioca anche molto bene eh vabbè, io mi sono messo con te il giorno perché tanto soffino che mancavano 20 secondi di conquista ma mamma mia, se non fosse per gli alleati sarebbero anche più belli un cazzo, non ho detto se mancano due minuti, sembra già 196 no, no sì, era 100 più questo, se non le conquistavano no che testa di pupù che si è dai, caspita vabbè ragazzi, spero che il live vi sia piaciuto è un 81.4 mettete mi piace e iscrivetevi se volete altri video di questi mappe live ciao a tutti